Buonasera, buonasera, no no facciamo quei domani, una preghiera, vorrei parlare di calcio stasera, solo quello, grazie. Parlando di calcio quanto ha sofferto oggi? Beh tanto, tanto forse pure troppo, a un certo punto ho avuto veramente paura perché vedevo le ferre, vedevo i mostri, però poi i ragazzi devo elogiarli perché comunque hanno fatto una prestazione veramente superlativa, diciamo la ghina che stavo prendendo la partita era un po' complicata per tante cose che avete visto anche voi, quindi è inutile che mi ci soffermo perché meglio non parlarne, però hanno avuto un'ottima reazione, bene, sono contento. Quindi pronti per il derby? Diciamo che è una vittoria che ci aiuta molto, ci aiuta molto per il derby perché ovviamente arrivarci così con questo entusiasmo degli ultimi minuti è importante, sicuramente sarà una settimana ovviamente da lavorarci bene, perché comunque ci abbiamo avuto anche la squalifica probabilmente di Ciancio con l'ammunizione, quindi va bene, bene. Presidente buonasera, lei ha calato più 9, quindi che vogliamo dire? È chiaro che non gli faremo le domande in questo senso, parleremo di calcio, ma anche di calci perché in questo girone B nella serie C se ne danno molti, noi temevamo che ci mettessero al giro C dove se ne danno altrettanti, ma io vedo che anche qui si picchia di brutto in tutte le parti, comunque chiusa la parentesi. Questa ternana secondo lei in vista del derby che cosa deve fare? Secondo me, io gli dico quello che penso, poi lei mi dirà la sua... L'ascolto con piacere. Secondo me deve andare in campo più grintosa, subito dal primo minuto deve mettere più vigore, questo è chiaro che lo direi male all'allenatore dopo, però lo diciamo anche a lei perché lei è quello che tira fuori i soldi e quindi è la prima persona che poi si deve praticamente rendere conto per quello che riguarda la gestione societaria, ecco quindi questa è la domanda, altro non li dico perché io dovrei fare solamente i complimenti che naturalmente li faccio, ecco grazie. Grazie, ovviamente non è un problema dei soldi, il problema è quello che io posso dire ragazzi e che dirò, come ho detto pochi secondi fa, continuare sugli ultimi 15-20 minuti della partita di oggi, quindi entrare in campo con la determinazione che abbiamo avuto, anche se poi oggi comunque l'impatto iniziale è stato positivo perché siamo entrati bene, abbiamo avuto qualche occasione, potremmo concretizzare prima, quindi l'impatto è stato positivo, poi ovviamente se mi la tirate con i capelli in mezzo tra i primi minuti e gli ultimi in mezzo c'è stato qualcosa di un po' particolare, però qui è stato il merito dei ragazzi, del mister mantenere la calma, rimanere lucidi e giocarla e alla fine è arrivato quello che era giusto arrivassero, la vittoria. Ti riferisci all'antico? Diciamo che non siamo stati abbastanza fortunati oggi, ecco, da quel punto di vista, quindi ovviamente parlo di sfortuna, non parlo di altro, però diciamo che poteva andare leggermente meglio da quel punto di vista, però è andata bene poi sul risultato, quindi va bene così. Presidente, buonasera, ieri lei su una storia di Instagram ha detto oggi santi domani fere, inquadrando poi la curva Nord, oggi comunque sia le due curve hanno sostenuto ovviamente i ragazzi, è stata una bella cornice di pubblico, anche ieri in conferenza stampa il mister sperava in un aiuto da parte dei tifosi rosso-verdi, ecco, lei come l'ha visti oggi? Bene, bene, diciamo che il supporto dei ragazzi non è mai mancato, da quando sono arrivato io è sempre stato un crescendo, anzi come ha fatto il mister ringrazio pubblicamente i 160 ragazzi che sono venuti fino a Sestri, è una trasferta anche logisticamente complicata, quindi no, incomiabili dal primo all'ultimo minuto, non hanno fatto mancare il sostegno anche dopo il gol, quindi lì nulla da eccepiranzi, solo rispetto e massimo amore per loro. Buonasera Presidente, le chiedo, su 1-0 ha avuto paura? Sì, decisamente, decisamente perché comunque queste sono quelle partite che poi sono particolari, magari prendono una china che poi è difficile raddrizzare anche perché era venuto il gol a ridosso della fine del primo tempo, sono quei gol che poi rimangono indigesti se non si reagisce bene subito, però la squadra poi, comunque sì, ho avuto paura, però ero convinto che poi avremmo sbloccato il risultato e poi sarebbe andato increscendo. Chiamo che le cose poi non si erano messe, perché oltre al vantaggio della spada c'era stata anche l'uscita ai cicerelli, che bene o male è sempre il cantono e il... Beh sì, per noi è importante e fondamentale colui che apre le linee avversarie, punta l'uomo, lo salta sempre, crea sempre superiorità, però comunque la cosa buona di questa ternana è che comunque poi il mister quando si gira dietro ha alternative valide che comunque... Sarà il derby? L'ultima cosa che le chiedo, in tribuna sicuramente sarà in tribuna o tra i tifosi? Che c'è qualcuno, qualche presidente preferisce magari andare in tribuna insieme ai tifosi? Beh, io con i tifosi non avrei nessun problema a vedere la partita, se è loro il giorno che mi inviteranno, perché non mi permetto di invadere il loro territorio, il giorno che farà piacere avermi tra loro, sarò il primo ad esserne contento. Presidente, buonasera. 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 Senta, l'aspetto che più l'ha colpita dall'inizio diciamo di questa avventura a Terni, qual è l'aspetto che più proprio... non so, ambientale, sia calcistico che a livello proprio di piazza? Il calore, il calore e diciamo l'amore che si ha perso la ternana, lo sto vivendo come già ho detto in conferenza stampa ogni giorno proprio sulla mia pelle, lo vedo anche dai tanti messaggi che mi arrivano privatamente sui social, veramente tanto calore, entusiasmo, mi piace, io mi trovo benissimo, dico la verità, questo primo mese e mezzo per quanto mi guarda è entusiasmante, anche dal punto di vista poi i risultati ovviamente stanno aiutando perché quelli aiutano tutti quanti e a me principalmente ovviamente arrivando... non lo diciamo. Presidente, buonasera a Usteri della Nazione, lei è sempre stato ottimista dall'inizio senza inutili scaramanzia secondo lei, hai detto c'è un obiettivo, andiamo avanti, è possibile che questo suo ottimismo abbia aiutato la squadra in qualche momentino un po' complicato? Me lo auguro, è sempre quello che ho cercato di trasmettere dal primo giorno che sono arrivato dalla sera che mi sono presentato negli spogliatoi, l'ottimismo aiuta a superare anche i momenti più complicati e le avversità, per me il bicchiere è sempre mezzo pieno e c'è sempre un perché se succede qualcosa, dobbiamo essere bravi, quel qualcosa se al momento è negativo sicuramente avrà un risvolto positivo più avanti, quindi vivere tutto con ottimismo è fondamentale, specialmente poi nel calcio perché nel calcio ovviamente è molto morale, palla dentro, un palo esterno, un palo interno, può cambiare un giudizio di una partita che magari si era dominata, però va così, l'importante però è analizzarlo e essere critici anche nelle vittorie, perché se no è facile essere critici nelle sconfitte, noi dobbiamo essere critici nelle vittorie, ma vedere sempre il bicchiere mezzo pieno anche quando il risultato non è come avremmo voluto, però l'ottimismo aiuta a noi, aiuta a me ovviamente perché lavorare in un ambiente sereno aiuta meglio, i ragazzi ovviamente lo respirano ancora più di me perché poi a fine di allenamenti vivono la città, vivono la piazza e vivono i tifosi e l'alone di ottimismo fa superare anche barriere che sembrano insommortabili. Buonasera Presidente Federico Bobbi, Radio Terri Galileo. Buonasera. Abbiamo parlato prima dell'aspetto tecnico dei giocatori Cicerelli, Cianci e quant'altro, ma oltre il tasso tecnico può essere un aspetto fondamentale proprio il gruppo, l'abbiamo visto anche nei gol di oggi, anche il mister Abate, sono andati tutti ad abbracciarsi, può anche la tensione della gara magari, però questo può essere un fattore positivo, un qualcosa in più anche per il proseguo della stagione? Assolutamente sì, il gruppo si vede che sono ragazzi che stanno bene tra loro, vivendo anche lo spogliatoio, è un gruppo veramente di amici e non solo colleghi, quello che si vede anche quando vanno sotto la curva a salutare di pesa, si vede che è genuino, che non è artefatto, che non è costruito, è vero, è tutto vero, quindi i primi ottimisti, sono loro e io ovviamente non posso che cavalcare il loro ottimismo e la loro voglia di far bene, posso solo supportarli come ho detto affinché dall'esterno non subiscano aloni negativi, il mio compito è questo. Buonasera Presidente Teodori Francesca, TRG, ascolti io ho visto una squadra, lei ormai ha avuto modo di vederla in maniera diretta come gioca, ci ha detto più volte che è soddisfatto anche di tutta la squadra, non soltanto dei titolari o di quelli che sono un po' più rappresentativi, allora sinceramente ad oggi lei pensa che questa squadra possa continuare ad ambire, a ritornare in Serie B, considerando anche gli avversari ovviamente, oppure dobbiamo avere comunque navigare a vista? Perché secondo me oggettivamente la squadra è veramente molto forte, questo è un anno che va colta l'occasione al volo, questo è il mio pensiero, non so se lei lo condivide o meno. Allora lo condivido però parto da un presupposto che una non esclude l'altra, per me navigare a vista significa navigare a ogni singola partita e ogni singola partita ci deve portare al risultato finale che per quanto riguarda l'ho detto dall'inizio, io sono qui e spero di salire subito il primo anno, non mi nascondo, quindi questa squadra per me deve arrivare su fino in fondo, non vedo alternative, poi da qui a riuscirci c'è un altro discorso, ma noi ci dobbiamo puntare, è quello che dico sempre ai ragazzi, quello che dico al mister, al direttore Mammarella, dobbiamo puntare, io sono ammizioso, è inutile che ci giri intorno, io voglio vincere, mi piace vincere, mi è già il pareggio messo a stretto, però ovviamente nel calcio c'è pure quello, voglio vincere, perché nella vita vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Buonasera Presidente, Paolo Grassi messaggero, torniamo un attimo a parlare del derby, so che ne avete parlato prima che io arrivassi, intanto le chiedo due cose, intanto come lo vivrà questo suo primo derby, se conosce e sa quanto è e quanto significa questo derby per l'Umbria e secondo poi le porto un'ambasciata di un paio di tifosi che mi hanno detto, quando ti capi la domandaglielo, la possibilità in quell'occasione di allestire a maxi schermi e liberati per assistere al derby, visto che andranno su in mille e poco più, ma la richiesta è molto di più, ci potrebbe essere questa possibilità considerando che lo scorso anno fu fatto la stessa cosa qui in occasione dell'ultima partita della regular season che era Ferralpizolo Ternana e l'occasione della partita di andata di play out Bari-Ternana. Una risposta molto articolata, non me ne vogliate però ovviamente conosco il derby, i derby conosco perché vengo da Roma quindi so che significa viverlo all'interno addirittura della stessa città, quindi so cosa significa, ovviamente lo vivo adesso in modo diverso, quindi c'è un coinvolgimento ancora più diretto e importante, quindi immagino che è una partita speciale per l'Umbria perché alla fine sono due squadre che hanno il monopolio di questa regione, quindi quello che spero è che venga vissuto dai ragazzi, ovviamente non so che dia una partita come le altre perché non lo è assolutamente, però va preparata come le altre, dal punto di vista del campo va preparata come le altre, dal punto di vista mentale ovviamente sono ragazzi che hanno tutti un certo tipo di esperienza per capire come va affrontata e come cavalcarla, per quanto riguarda i maxi schermi non è una cosa che io diciamo, uno di mia pertinenza non lo è, però generalmente non è che, diciamo io sono molto favorevole perché non è che portano un gran che bene, lo dico proprio sinceramente ecco facciamo così, lo dico proprio direttamente, vedo allora io vedo il bicchiere mezzo pieno però ci sono alcune cose che è meglio non sfidare la sorte ecco, facciamo così, grazie a tutti bene, grazie, grazie